Da LucaNator005 faremo un nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition insieme a JohnnyGamer25 Bella a tutti ragazzi e buona visione! Iniziamo una survival Allora Oddio Nel porto, si il villaggio, scusate me l'ho scordato Allora andiamo Ecco Johnny, tu ti prendi quattro lingotti? Sì Ne posso prendere tre io? E io, a me ne lasci uno Sì No Allora io mi prendo le mele Facciamo due, a me ne prendo le mele Tu glai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Ok, dai, io mi prendo Comunque ragazzi, scegli la canna di Johnny e scegliete pure al mio, per favore Allora In il frattempo Ti ho lasciato solo le mele Ah, non te le sei piaciute le miele Non me le sei piaciute Ah, non te le sei piaciute Uè Mi faccio Fai l'ingotti, adesso vi faccio una bella piccozza Johnny, io mi sto prendendo il grano Perché dopo io mi faccio l'orto Prendi tutto e invece il tipo me lo Io mi faccio l'orto come un buon contadino Tu Ma io invece il tipo me lo guardo, me lo guardo, me lo clavesto in a me Mi lo puoi e vedi che fai eh No, 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 non ti fai Comunque non dobbiamo fare la fine dell'altro video quando abbiamo incontrato Lender Man Per favore No, l'ora è stato scandaloso Cioè io che... Non sia mai È solo per vedere al base del canale di Johnny Gamer 25 Ah, ok Io mi faccio una bella piccozza Ad esempio, io in legno, grazie Prego Tu in legno, tu hai la clemenza, tu hai la potenza Tanti sono già in legno Giusto? Sì Sto cazzo Uè Che hai trovato? No, io vado con una crafting table a farmi una bella piccozza a riferro Ma dove stai? Ah, sei dentro la fabbrica della libreria Ho detto fabbrica della libreria, hai visto? Vieni che bello Si fabbricano libri Adesso mi faccio anche una bella palla di ferro Un'altra asta, ok Ho fatto tutto il necessario, ho quattro aste Ok Vuoi andare nel posto pericoloso? Sì Lontana di che cosa stai, scusa, non l'ho fatta Ti prego, hai la piccozza di ferro Ti prego, ti prego, ti prego Che ho quella in pietra, ti prego Butto stronzo, butto stronzo L'ho schiesa Oh mio Dio Oddio, ma aiutami però Non c'è, non c'è il sole, non posso venire Se non mi ha ucciso, ho la piccozza io Ucciso Ho il bombial Ho il bombial Cosa vuoi bombial? Bombial, la farina rossa Con questo puoi fare È lontana, io voglio il ferro Tu Vuoi fare il ferro? No, tu non Sì E vieni, vieni Senta più Questo qua è mio Oddio Non ti ruba il ferro, me lo devi dare il ferro No, non l'ho rubata È lì, è lì dove è Dammi il ferro No, non ce l'ho io Ok Fammi vedere Johnny Non ho il ferro Ok L'ho rimasto tutto quanto lì Brutto creeper Lui mi sa che ti ha visto E ha pensato che era un creeper maschio E tu come stai che è femmina quello, dimmelo Non lo so Oh sei il dottore Che partorisce le donne Mi prego questo pezzo di perlo Eh no Eh diamo non vale Aspetta, io quanto ne ho? Cinque No, mi diamo Io te ne do uno Perché tu già la piccozza? Tu me la hai Spago da Don 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 Eh no, però te ne devi andare Io voglio prendermi i materiali Eppure io voglio venire lo spawner Mamma mia Sì, sì, tu vai Tu vai Mi piego pure le torce E vado a prendermi le torce E vado a prendermi tutto quello che c'è nello spawner Stavolta Allora, attenzione ai quei bruttissimi No, stavolta vengo pure io con la spada in ferro Stavolta Ah, è la spada in ferro? Lo devo fare ancora Stavolta Ma stavolta non mi butto se non sono mai Perché ho paura Allora, l'altra strada arriverà Ecco Io fa una bella fornace Una fornace Eccola qua Io ho tre Ho quattro docce Ho andino cinque Cacchio, sto morendo di fame Oddio, sto bivinato e tu che ci fai Oddio, un creeper Mi sono stati male, lo sai? Sono due Non mi prende nessuna cosa mia Non mi prende nessuna cosa mia Che sto morendo di fame Eccolo io fa uno, lo sai Dove mangiare la cotoletta Stasera Mi allontano perché devo andacci di qualcuno Devo andacci di qualcuno Spero che stai tutti e due stupidi qua I creeper e tutti e due Cioè Uno è venuto, mi ha disturbato Dopo sono morti tutti e due Io sto morendo di fame Mucca Mucca La mucca Mia bistecca Ecco Ho tre bistecche Ho tre manzi crudi Adesso mi vado a cuocere con il carbone Che ho guadagnato Che ho guadagnato Non ho stick Mannaggia E vado a mangiare Allora Mi devo fare una bella cosa Crepa come i creeper Crepa creeper Un'altra mucca E non ho ancora Un albero davanti a me Ecco Mi devo fare una bella ascia In ferro Una bella aspa di in ferro Ho quattro bistecche adesso Queste qui le do a mangiare Oddio Si muove troppo questo controller Quattro bistecche Vai Ecco Vabbè due ce ne basta Allora A me però interessano soltanto le torce Quindi Allora Andiamo a comandare ora Contro Mi sta ponendo Quattro bistecche cotte Dove sta? Oh Dieci torce Non ne ho dieci Ne ho quaranta No 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 mi sta finendo il materiale Perfetto Giusto in tempo Oddio paura di scendere Mi paura di scendere Non voglio crepare Sai non voglio accacare Ok mi sono fatto quattro bistecche cotte Ti prego io mi sono avviato Ti prego vieni Giovanni ti prego Oddio Ti prego da quando avevo mangiato Dai a quando avevo mangiato Muori c'è Muori c'è What onda fact crott Oddio Da kuin Spono 99 uvsssssc 925 Ti prego vieni Giovanni Ti prego vieni Giovanni Ti prego vieni Ti prego vieni Mi sono, mi sono giusto, ho altre due B-stack col... Oddio, io sto morendo, io sto morendo, io sto morendo. Che c'è da? Ma la capisci, la pola? Io sto crepando, sto crepando. Ma non ti vedo. Attenzione agli Enderman, che cos'è da gli Enderman? Enderpearl. Magari se avessi Enderpearl. Guarda, c'è te lo spawner, c'è te lo spawner. Mettelo, 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 spawner. E sono morticelli. Fammi, andiamo in giocano pure me. No, Giovanni, no, no, scappa, scappa. Ma sono mortacci dello zombie, ma sono mortacci dello zombie. No, sono mortacci miei perché mi hanno lasciato a me, no te. Eh, ma sono mortacci, che io sto dentro lo spawner, come faccio a prendere la mia roba, che ho tutti i vangotti di ferro. Infatti... Eh. E quindi ma sono mortacci tu, non sono mortacci tu. No, mortacci tu, mortacci mie e mortacci dello zombie. Ma non sono mortacci miei, a che ci vengono? Eh, perché tu stai là e non muori tu. Ciao, Giovanni. Invece mi salvo, che fai lo grezzo. No, ma io vado sentendo domani. Io mi sono salvato. No, io vado sentendo domani. Che amico, eh, che sei, Giovanni. Vabbè. No, ma io ma ci giusto io. Ma spiaglia? No, ma io mi sono salvato tutti, mi potete finire se si spagna. Venti, giù, 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 giù. Io lo greppo, io lo greppo. Già, due controllo, io, Gio, ne faccio tu metti i cuori. E tu, giù, 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 vieni, vieni. Grazie, Gio, che mi picchiano. Aiuto. Gio, mi picchiano tu. Con la piccozza forse funziona. Ho ucciso quello con l'armatura d'oro. Quindi, ragazzi, questa survival è finita. Ci vediamo in un prossimo video. Armatura d'oro. Addio, ragazzi!